Effettivamente, come dice Lanza, giuridicamente lo scudetto è giusto, non si capisce la parola vergogna, non si capisce il scudetto della vergogna su un giornale. Noi giornalisti difficilmente siamo obiettivi, però credo che abbiamo tutto il diritto di essere tifosi, però quando scriviamo vergogna poi dobbiamo argomentarlo un po' meglio. Poi vorrei dire una seconda cosa, io non direi che il Milan ha intorno tanti nemici perché vince, certamente vince troppo, forse può avere scarse simpatie, io starei attento adesso, non perché vince troppo ma forse perché non sa perdere, io a questo starei un pochettino attento.